Noi come Microsoft Advertising non possiamo affrontare il tema della multicanalità se non con riferimento a quello che è l'ambiente multicanale in qualche maniera per eccellenza adesso che è internet. Internet è uno strumento, tante cose, un elemento di comunicazione, un elemento che consente l'interazione tra utenti ed aziende ed è questo il vero punto fondamentale, il vero elemento focale. Internet in questo momento offre l'opportunità, o comunque tutto il mondo digitale, offre l'opportunità di una relazione diretta tra utenti ed azienda in un meccanismo che è un meccanismo virtuoso perché non è un meccanismo a una via ma come sappiamo è un meccanismo a più vie e soprattutto consente alle aziende, aziende che in qualche maniera si mettono in gioco anche di far giocare o comunque di far toccare il proprio marchio ai consumatori, quindi non imporlo ma in qualche maniera farlo diventare parte della vita da parte dell'utente. Ecco questo è il vero elemento in qualche maniera rivoluzionario che sempre di più le aziende dovranno in qualche maniera imparare a gestire. Ecco la nostra attività sarà quella di aiutare sempre di più le aziende a costruire questo meccanismo che è quello di perdere in qualche maniera la guida diretta delle attività di comunicazione, co-creare con gli utenti in modo che poi il meccanismo risulti virtuoso in termini di ampliamento della reputazione, dell'equity della marca presso il proprio pubblico dei consumatori.